Presidente Marco Benedetti, parte la quinta edizione di Garda con Gusto, un'edizione che sale ancora di livello? Decisamente sì, noi abbiamo bisogno solo di prodotti e di processi qualitativi in questa zona per elevare appunto la qualità del nostro turismo e pensiamo che la gastronomia sia uno dei viaggi sicuramente più interessanti che l'ospite può fare e portarsi via come esperienza felice di un territorio. I prodotti del Garda Trentino, grandi protagonisti e trattati dalle mani di chef straordinari. Sì, ci siamo un po' allargati, siamo partiti qualche anno fa quasi a difesa della carne salada che vedevamo un po' come il prodotto più tradizionale della nostra zona. In verità abbiamo scoperto poi lungo la strada molti altri prodotti ad iniziare dall'olio e dal broccolo che sicuramente vanno valorizzati e vanno soprattutto elaborati in una chiave che oggi sia più moderna e più gastronomicamente accettata da quello che è un pubblico che dal punto di vista delle papille gustative sicuramente ha cambiato molto in questi ultimi anni. La televisione e gli show televisivi sicuramente hanno aiutato in questo e cerchiamo quindi di dare anche noi il nostro contributo, che deve essere un contributo fattivo a che si elevi la ristorazione locale. Qui si impara molto, lo vediamo quasi come un momento formativo per quanto riguarda la nostra imprenditoria che già sicuramente è brava ma non deve smettere di imparare. Allora buon appetito! Grazie a voi!